Diciamo che è un mese in cui ho avuto l'opportunità, continua peraltro, naturalmente di incontrare e conoscere tante persone andando anche nelle comunità, andando incontro alle persone che vivono nel territorio e ricevendole anche tutti coloro che hanno chiesto di potermi incontrare. Per cui sono giornate molto intense, molto belle. Possiamo dire che vado componendo giorno dopo giorno una specie di mosaico dove davvero incontro la ricchezza della storia, della vita di persone e di comunità, diciamo così, persone impegnate anche a livello non solo ecclesiale ma anche civile, sociale. Tra tutti gli incontri che ho vissuto durante questo primo mese vorrei citare al primo posto l'incontro con la comunità carceraria di Villa Fastigi. È stato un momento molto forte, molto forte davvero. Direi che tra tutti gli incontri che ho avuto forse questo direi che è quello che mi ha colpito di più. Il desiderio di fare comunità è palpabile e io lo colgo in tutte le occasioni in cui incontro le persone. Ho fatto anche un po' questa scelta di essere, per così dire, il meno possibile chiuso, per così dire, nel palazzo, nell'appartamento e andare in mezzo alle persone, nella strada, nell'incontro alle comunità che vivono nei quartieri e anche nei centri limitrofi a Pesaro, della diocesi di Pesaro, appunto. E trovo davvero sempre tanta accoglienza e tanto desiderio di allacciare rapporti e di approfondire una relazione. e il desiderio di essere accompagnati nel cammino che ci attende. Quindi direi che siamo in un tempo, da un lato, segnato da tante paure e preoccupazioni, dall'altro, però, segnato anche dalla speranza, da questa voglia di guardare al domani e di guardarlo insieme. Quindi, ecco, io sono qui per camminare insieme con il popolo pesarese.